Gentili telespettatori, buona giornata. Enrico Letta non sta sereno, quella famosa frase di Matteo Renzi, stai sereno Letta, e poi gli ha portato via il governo. Letta parla di tutto per cercare di aumentare la sua visibilità. Intanto ogni giorno cerca di criticare Matteo Salvini e prova a dettare l'agenda a Draghi. E poi ha il problema con i 5 Stelle, quegli strani alleati della poltrona. E così, Letta ha l'ansia da prestazione, non sta sereno. E da due mesi è segretario del Partito Democratico e già ha paura di perdere il posto da segretario. Rientra dalla Francia. E si sta rivelando un problema, perché per stare sul pezzo, diciamola così, con questa frase idiomatica, per stare sul pezzo, straparla di tutto. Dalle leggi che si vanno ad approvare, dalla RAI all'Europa, ai vaccini, al recovery, chi più ne ha ne metta. Parla di tutto, perché Salvini realmente ogni giorno fa delle proposte su tutti i temi. E una delle prime critiche di Enrico Letta era questa. Ma come? Salvini cos'è? Un tuttologo? Ha una soluzione per tutto? In realtà quello che fa Matteo Salvini è quello che fanno i capi politici. Ovviamente non è che un politico è un tuttologo che sa di tutto. Ma se si propone come Salvini alla guida del paese, deve avere delle soluzioni per tutto. Anche sui temi di cui non conosce deve avere delle soluzioni. Non può esistere un candidato premier a metà. Dice io di queste cose parlo, di queste non so niente, non parlo. Un premier, un capo del governo, deve affrontare tutti i temi. Che li conosca o no, li deve affrontare. Tutti. Ma questo non era piaciuto a Letta perché Letta realmente non parlava di tutto, anzi non parlava di nulla. L'unica etichetta che si era dato era l'anti Salvini, cioè criticare le proposte che faceva Salvini. Non farne delle sue, ma criticare quelle degli altri. E così. Adesso invece per imitare Salvini e per far vedere che anche lui c'è su tutto, c'è sul pezzo. Lui vuole stare sul pezzo, qualunque sia. Allora parla di qualsiasi cosa, ma a differenza di Salvini che cerca di dare delle risposte e delle proposte su tutto, lui straparla. E lo abbiamo visto in questi due mesi. Il vero ostacolo del PD è l'alleanza con i Cinque Stelle. Roma, Torino, Bologna, non sa da fare. E senza alleanza molto probabilmente, a meno che Letta o i Cinque Stelle abbiano un nome così forte che vada al di sopra delle alleanze, andranno a perdere la maggior parte dei comuni ad ottobre. Sono solo comuni? Attenzione, cosa vuol dire solo comuni? Anche le elezioni regionali non hanno fatto cadere i governi, anche se alle elezioni regionali il centrodestra ha conquistato quasi tutta l'Italia. Il 75% delle regioni sono in mano al centrodestra, 75%. Una volta era al contrario, erano in mano alla sinistra. Nonostante questo, quello che è successo con le regionali, il governo è andato avanti, quindi con quello che succederà a ottobre nelle comunali varranno meno delle regionali, per quanto possano essere un'indicazione di voto finalmente non più solo dei sondaggi. Beh, insomma, dice Letta, farò un giro d'Italia, sarà una bella modalità per ricominciare a fare politica sui territori, fra la gente i circoli, e fisso un obiettivo, mezzo milione di nuovi iscritti. Ma chi se ne frega degli iscritti? Nel senso che se tu avevi prima 10 milioni di elettori e 500.000 iscritti, chi se ne frega che se gli iscritti diventano un milione quando poi quei 10 milioni di votanti diventano 5. Che importa il numero degli iscritti? Beh, qualcosa importa, perché gli iscritti o tesserati pagano. Voi sapete che se volete fare la tessera di un partito c'è qualcosa da pagare, 5 euro, 10 euro, 15 euro, a secondo che tipo di sostenitore siete. Non vuol dire niente, siete il sostenitore base, il sostenitore premium, il sostenitore d'oro, il sostenitore chissà che cosa, ma alla fine non è che qualcuno realmente sa che tizio. Voi date al posto che 10 euro 15 siete il sostenitore super wow, ve lo scrivono in un'email, dice guarda tu sei un sostenitore wow, ma hai dato 15 euro, finisce lì, non è che poi il capo politico il giorno dopo vi invita a pranzo e vi ringrazia per i 15 euro o vi dà un posto in parlamento. Insomma, il tesseramento è una sorta di volontario obolo che date, un aiuto, come qualcuno di voi fa un aiuto al canale con le donazioni per esempio o iscrivendosi all'abbonamento, con l'abbonamento nel partito uno dà quei 10 euro e praticamente avete fatto una donazione al partito. Quell'iscrizione, che cosa comporta quella tessera? Che vi invitano le email, che ho scritto guarda che c'è una riunione a dormelletto del partito, sei invitato, tu e tutti gli altri tesserati siete invitati a partecipare a questo, quell'evento, oppure vi arriva una sorta di newsletter, cioè ogni giorno, ogni settimana vi arriva una sorta di notiziario, di giornalino del partito, insomma è questo. Ma lui a letta vuole raddoppiare gli iscritti, gli iscritti poi pagano e aumentano i soldi nelle casse del partito. Ma al finale che il partito abbia il doppio o il 30% in più dei soldi in cassa non vai a governare perché hai più tesserati, non è che con quello adesso vinco le elezioni perché ho più tesserati, ho più tesserati, ma non importa quanti tesserati hai, importa quanti votanti hai, non quanti tesserati. Ma nel suo intervento la direzione del partito, convocata ieri Letta cerca di buttare la palla nel campo di Draghi, dice a nome della direzione mi sento di dire che oggi chiediamo a Draghi di dare una nuova chiara missione a questa maggioranza per i prossimi mesi, necessaria per favorire la coesione e il senso del perché questa maggioranza sta insieme. Sta insieme perché non si voleva andare a votare e far vincere il centrodestra. Credo che questo sia chiaro a tutti, da qualunque parte voi politica stiate. Ci fidiamo di Draghi, gli chiediamo di essere molto chiaro e netto nell'indicare la missione e chiedere ai partiti di maggioranza di essere tutti al pezzo. Continua con questa roba del pezzo. Lui si paragona a Roberto Mancini CT, commissario tecnico della Nazionale, dice il mestiere del segretario del PD e comparabile al CT della Nazionale di Calcio perché tutti gli italiani ti dicono cosa devi fare, ti danno consigli. È certo che tutti ti danno consigli Letta, con le priorità che hai tirato fuori è certo che i tuoi elettori dicono no beh dai ma ascolta parliamone no? Parliamone. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.